Conferenza stampa di presentazione dell'accordo di collaborazione scientifica tra il master di secondo livello in progettazione di eccellenza per la città storica, afferente al Dipartimento di progettazione urbana e urbanistica dell'Università Federico II e il Comune di Napoli. Nella sala giunta del Comune l'assessore all'urbanistica Luigi De Falco ne ha illustrato i contenuti. Si di individuare strategie di interventi architettonici e urbanistici per il recupero del centro storico di Napoli. Lo stesso De Falco ne ha raccontato le caratteristiche. L'impegno dell'amministrazione è quello di portare a concretezza tante cose che sono state dette nel tempo sul centro storico ed è anche l'impegno che abbiamo assunto nei riguardi dell'UNESCO perché le cose concrete si facciano viva a Dio. C'è il grande progetto che parte a breve con i capitali europei, con sono 100 milioni, ma poiché il centro storico è talmente vasto per cui immaginare un intervento su 30 monumenti significa ragionare ancora dell'un per mille di quello che occorre.